Sì, noi dobbiamo guardare questo che sta avvenendo nell'insieme. Tu hai fatto vedere una bandiera dell'ISIS che appare in una piazza. A Londra. Hai fatto vedere un interrogatorio in esclusiva, un documento che fa parte ormai della guerra. L'esibire, il mostrare, il volto che si vuole di sé. Noi ci troviamo di fronte a una guerra che non percepiamo ancora nella sua interezza in un momento molto particolare. Cioè quello in cui, a ragione caprarica, noi non dobbiamo fare dell'Islam un tutt'uno, ma qualcuno da là sta cercando invece di fare dell'Islam un tutt'uno. Ed è la prima volta che avviene che una bandiera dell'ISIS o di Al-Qaeda si mescoli alla questione palestinese. Nel momento in cui il governo di Israele è il più debole della sua storia, è il più contestato dagli stessi israeliani colti della borghesia di Israele che in questi decenni l'avevano costruita. E questo è un tema. Di fronte a un Occidente che è più debole che mai, che sta già con fatica affrontando un'altra guerra. In tutto questo i metodi di Hamas non soltanto sono chiari. E infatti io sono sconvolto che in Italia, non tanto nelle piazze, Feltri le vuole vietare. Secondo me le dobbiamo osservare bene per capire cosa sta succedendo. Ma certamente questa confusione che ho sentito da certi esponenti della sinistra, su chi oggi rappresenta la Palestina e su che cos'è la questione palestinese, mi ha sconvolto. Perché se oggi Hamas è così forte lì, c'è una responsabilità nostra enorme di avere abbandonato la strada dello Stato Pacifico di Palestina per molti anni e avere consentito a questa gentaglia criminale e terrorista di andare a dire a dei ragazzi non credete più a quei signori là, la democrazia non esiste, dovete venire con noi. Quindi noi dobbiamo fare un mea culpa. E oggi stare con Israele significa non solo fare un atto morale, ma anche consentire l'unica strada se domani vogliamo uno Stato Pacifico di Palestina. Diciamo dopo domani, perché domani è difficile, oggi deve vincere Israele.